La vista mozzafiato dal suo terrazzo sulla scalinata di Trinità dei Monti ha affascinato tutti i nomi più importanti del Jet Set internazionale. La sua collezione di gioielli fa parte della leggenda e la storia dell'eredità di Renato Angiolillo, passata attraverso le mani della seconda moglie Maria Girani e degna di un racconto di spionaggio. L'hanno in parte rimessa in fila i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Campobasso, coordinati dal sostituto procuratore Fabio Papa. Oggi di quella storia è stato scritto un nuovo capitolo quando si sono aperti i cancelli del cavo della Banca d'Italia del capoluogo, al cui interno sono ora custoditi una coppia di orecchini con rubini, zaffiri e smeraldi e un girocollo con incastonato un rubino cabochon sangue di piccione. Sono gli stessi che Maria Angiolillo indossa in questa foto insieme a Gianni Letta, storico direttore del Tempo, quotidiano fondato dal marito della regina dei salotti romani. I gioielli erano stati rintracciati a marzo nella casa di Monte Carlo di Oreste Bianchi Milella, figlio di primo letto di Maria Girani Angiolillo, il quale, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe messo le mani su quello che viene considerato il tesoro Angiolillo. 23 pezzi da capogiro, la cui stima, effettuata nel 1970, superava i 6 milioni di franchi svizzeri, quasi 100 milioni di euro attuali. Le indagini erano partite nel 2010 dopo la denuncia alla procura di Campobasso di Renato Junior, uno degli eredi del senatore Angiolillo, presentata dall'avvocato Luigi Iosa. I due gioielli rintracciati oggi in Italia hanno un valore di alcuni milioni di euro, briciole, se raffrontati ai 39 milioni di dollari, pagati da Christie San New York da un anonimo acquirente entrato in possesso del Pink Diamond, un diamante rosa di 34,6 carati, grosso come una noce, ritenuto dagli inquirenti il pezzo forte del tesoro. A portare gli investigatori di Campobasso nel Principato di Monaco, a casa di Oreste Bianchi Milella e del faccendiere svizzero, sono state le intercettazioni telefoniche che potrebbero essere la base su cui poggia tutta l'inchiesta. Un colpo da 90 messo a segno dai carabinieri della giudiziaria e dal sostituto Papa, che come segugi hanno percorso tutta la pista fino a trovare, è proprio il caso di dirlo, lo scrigno coi gioielli. Ora le indagini hanno avuto la svolta decisiva e il caso, una vera e propria spy story internazionale, potrebbe essere chiuso entro poche settimane.